Le possibilità di salvezza della Fidelis nel torneo di Serie C non possono che passare dal fattore campo. Al Degli Ulivi domani, sabato 25 febbraio, ci sarà il primo dei due appuntamenti consecutivi tra le muramiche per la squadra di Trocini. Un derby, un match particolarmente sentito, quello contro il Foggia, e che si è già svolto 13 volte nella storia a partire dagli anni 50 in tutte le categorie. Quarta serie, serie D, ma anche serie C e serie B. Quattro vittorie a testa, le ultime due dei rossoneri in trasferte e cinque pari il conto dei precedenti per una sfida che ha sempre regalato però emozioni. Questa volta sarà una sfida altrettanto importante, visto che la Fidelis si gioca davvero le ultime residue speranze di riagganciare il treno salvezza dopo i due pareggi consecutivi per 0-0, mentre il Foggia vuole provare ad avvicinare il terzo gradino del podio dopo una rimonta che dura ormai da diversi mesi, anche se in settimana c'è stato lo scossone con le dimissioni di Gallo. Affrontiamo sempre squadre complicate, faccio una squadra forte, non sono certo io a scoprirlo, quindi qualsiasi sia l'avversario sappiamo che dobbiamo spingere forte e provare a vincere la gara. Il pari di Messina di domenica scorsa ha lasciato però con l'amaro in bocca lo staff tecnico Biancazzurro, come ha spiegato stamane in conferenza stampa il tecnico Trocini, che però non ha assolutamente dubbi, la Fidelis può ancora lottare per la salvezza. Non mi è piaciuto perché siamo un po' tutti rimasti delusi dalla prestazione, non siamo stati all'altezza dell'importanza della gara e questo ovviamente ci ha un po' sorpreso perché tutti quanti vedevamo una squadra in crescita, una squadra che in settimana salveneva fortissimo e quindi questa prestazione un po' sotto tono ci ha dispiaciuto molto e ci ha dato molto fastidio. Ne abbiamo parlato con i ragazzi, ne sono consapevoli che c'è da spingere ancora di più, ora giochiamo in casa e ci sarà certamente, da parte nostra ci deve essere, un atteggiamento diverso. Crede ancora nella salvezza questa Fidelis? Assolutamente sì, siamo qui per questo, ci crediamo e ci crederemo fino all'ottimo istante. La grande fatica con cui la Fidelis si affaccia in zona gol resta il problema principale ora da affrontare per una squadra che ha il peggior attacco del campionato anche se sembra aver migliorato sensibilmente nelle retrovie con tre clean sheet nelle ultime quattro gare. La coperta sembra essere corta, aggiustiamo una cosa ma c'è da aggiustare un'altra, ovviamente lo sapevamo, che c'erano delle difficoltà. Al tempo stesso stiamo lavorando per provare a dare equilibrio alla squadra che è la prima cosa, a volte però c'è successo in questo periodo di mia presenza, in questo mese che si fatica a creare quindi sicuramente dobbiamo prenderci qualche rischio in più, questa è fuori discussione. Il 4-3-3 dovrebbe essere il modulo confermato dal tecnico andriese, anche se potrebbero esserci novità soprattutto per il pacchetto avanzato. Tornerà tra i titolari Ciotti che ha scontato il turno di squalifica, ottima la prevendita per il match, considerata anche la riduzione di prezzi applicata dalla società biancazzurra.